Bentornati a Panorami. Siamo definitivamente all'interno di un'economia di guerra. Lo siamo da molti punti di vista. Lo siamo perché oggettivamente quello che sta avvenendo è una situazione, una condizione di deflagrazione del conflitto che vede il Cremlino spostare truppe verso il confine con la Finlandia dal momento che la Finlandia si trova nella fase decisiva per l'ingresso nella Nato e la logica putiniana della non accettazione, dell'autodeterminazione dei suoi vicini e confinanti porta per l'appunto a confermare quello che è evidente, ovvero che si tratta di un guerra fondaio che interpreta le relazioni internazionali come prove di forza e che soprattutto pensa che questa sia la sua finestra di opportunità per vendicare il crollo dell'Unione Sovietica, quella che lui in maniera curiosa peraltro, vista le critiche continue rivolte nei confronti dell'eninismo, considera la più grande tragedia del ventesimo secolo e la finestra di opportunità per cambiare l'ordine del mondo, quello che ci sposterà nella direzione verosimilmente di una autentica deglobalizzazione e del decoupling, dello sdoppiamento del mondo tra due aree di influenza. Un problema economico molto serio per l'appunto, che va a interrompere quel flusso di merci, di persone, anche di idee naturalmente, di innovazioni economiche e tecnologiche che aveva costruito sino ad oggi una prospettiva di società aperta, seppure all'insegna di varie diseguaglianze. E dunque l'economia di guerra entra nella nostra esistenza. Lo vediamo da molti punti di vista, lo vediamo anche nelle conseguenze che la guerra produce a livello strettamente finanziario, come il crollo del rublo, effetto delle sanzioni. Lo vediamo nella decisione di Edison di non rinnovare dall'anno prossimo i contratti con la Russia, sostituendo quella materia prima con il gas naturale liquefatto proveniente dagli Stati Uniti. Lo vediamo nella decisione da parte dei poteri pubblici italiani di stabilire anche dei tetti per i condizionatori, poi per il riscaldamento per la stagione fredda. Cosa che il presidente del Consiglio Mario Draghi, molto criticato ingiustamente per questo, ha deciso di sintetizzare con la sua frase semplificata ma molto chiara, chiedendo agli italiani se preferiscono la pace o il condizionatore. Frase per l'appunto in maniera eccessiva, molto discussa e molto criticata, ma che vuole evidenziare in maniera plastica e netta come nessun pasto sia e possa essere in un contesto di questo genere gratis, come ha ribadito il commissario Paolo Gentiloni, dicendo una verità molto chiara, ma anche se purtroppo assolutamente non chiara. Ovvero il fatto che gli effetti economici prodotti dalle sanzioni e che vanno a produrre una serie di problemi da economia di guerra, per l'appunto anche al nostro paese, non sono una decisione dell'Occidente, sono una naturale, inevitabile risposta e quindi la colpa del disastro economico, dell'interruzione della globalizzazione, dei problemi che le nostre imprese e le nostre famiglie si ritrovano è colpa solo ed esclusivamente del dittatore che sede al Cremlino, della sua volontà di potenza, della sua aggressione brutale nei confronti di un paese che si voleva e vuole autodeterminarsi e lotta per questo e ha quindi tutto il diritto all'assistenza e all'aiuto da parte delle nazioni libere e delle democrazie liberali.